Sì, questa è una buona notizia, anche un motivo di soddisfazione perché eravamo preoccupati, considerato i dati degli anni precedenti. Quindi è stato fatto un buon lavoro, devo ringraziare il vice sindaco Marchigiani e l'assessore Mascherin che hanno seguito tutta la pratica e va anche detto che questo risultato è accompagnato anche a delle azioni che l'amministrazione insieme ad Aset hanno messo in cantiere a cominciare da azioni che vanno a tutelare i nostri corsi d'acqua che sono l'Arzilla e il fiume Metauro, in particolare per quello che riguarda l'Arzilla che gli anni precedenti hanno dato problemi con la realizzazione di una vasca di prima pioggia che questo consentirà di tutelare maggiormente la qualità delle acque.